è arrivata anche lei è arrivata vieni sto dormi mi vengo con quel ciuffolo ma lui è il coglio che son Anna marina che è la cazzone no no ma dai senti anche nonna mi dà ragione che son cantante son cantantino si 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 è venerdì si 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 è venerdì si 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 vaffanculo dai alzate bel peluccio sembri un peluccio sembri un peluccio guarda che hai fatto qui guarda ma quando sei stato bravo guarda ma qui guarda guarda che hai fatto è fatto nuovo no stanotte oh quando sei stato bravo vattenee porca mia vattenee ma hai fatto nuovettino bevi te sciacchio di coglioni perché tu sei scena ha fatto nuovo nonna marina hai fatto un cazzo tu vai via bellino ha fatto nuovo ma ti rendi conto stanotte che ha fatto bravo no hai fatto nuovetto bravo quanto sei bellino ma mangiamolo oggi facciamo una frittatina a riovetto si facendo la frittatina a riovetto si facendo la frittatina a riovetto fammi sentili qui eh fa quattro come li sporghi fammi toccà anche da me fammi toccà anche da me fammi toccà fammi toccà è davvero ma tu queste le palline la tira tira queste le palline signora tira queste le palline queste la tira le palline altro che si è migliorato un po' Sardegna è stanco Simo basta è stanco è stanco dai è stanco guarda aspetta che l'asciugamo un po' come sei così violento sono tornato adesso che roba stampa dai dai come è nato dai non è tutto un gioco stamattina l'abbiamo fatto sto lavorando per pubblicare guarda come ho faticato mamma mia ma che fa così veloce ma guarda guarda mamma mia ragazzi qui con Marco che facciamo Marchino? attacchiamo l'etichetta di Carletto Life su Youtube e Instagram in realtà tu Marco non hai fatto niente niente eccola così almeno mi potete scannà scannami papà ma eh sto sto qui al naso non mi fanno cazzare come sei messo a sudoku però eh eh papà benissimo mangiato il panino la porchetta? no no sta dietro guarda quanto è in forma sei preso papà il colpo della strella come stai? malissimo non ti fa male è troppo fisica messo su di qui guarda che cucina funziona guarda ecco il Instagram che ho qua? youtube mio youtube hai visto? perfetto funziona benissimo si? a prova certi prova superata? quella è Instagram quella è Instagram cioè io non me lo so spiegare boh cioè l'avevo fatta per passare un po' inosservato cioè come fai a riconoscere dentro sta macchina dai poi non gli occhi buoni perché come fai? non fai nemmeno rumore cioè sembra metano boh e invece mi riconoscono tutti ma meglio così bravi suonatemi sempre oh eccolo senti che fai il pennello annaggia è panna se ti vieni ah come arrivi a casa rompi ma ti fa un pennello ma va 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 è ignorante come no va è ignorante come no va che ti fa il pennello eccoci qua sei contento? è tanto fai una faccia contenta dai cammino fai una faccia contenta più contenta più contenta ma vaffanculo oh così ah oh tu sei un testa di cazzo con la sgommata dai culo no ma perché? si tu è da Gipiano io oh dove vai attraverso? ma no dai mettiti fammi scendere ah che io erbo a casa ma perché? ma io mica vuoi venire accascando la strada oh ah e poi mori intorno al letto non dalla macchina eh che ha fatto quello che? l'hai visto quello? eh quello è un cornuto uno stronzo uno stronzo con S grossa quanto è quello della spigatola no ma perché? eh come perché? eh attraversa davanti a quattro metri saranno imbecilli oh eh fa come quando tu guidavi il camion eh io mi dava un camion non sape guidare che guidavi? ho cammino a 40 anni non mi è successo mai niente a te guarda questo ci sono ti conosce? ti conosci? ti conosci? chi è? ma chi conosci? ti conosci? chi è? eh chi è? ma non lo so chi è? ma vaffanculo questa terapia di fa anche è fondamentale è vero? aiuto fermati ma c'è una fatta oppure anche ti 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 mettile un po' anche lì e sta fermo e sta fermo metticela ti idrata dai letta mettila metto metto si lo posso si lo posso anche un po' sui capelli mettere tu sta fermo con le mani anche sui capelli no 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 non ne sta fermo non ne sta fermo mai 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 e che ne la metti di qui eh ha cominci? comunque o no quanto è bella Sisi tutta bagnata si non è meglio una bella sorca tutta bagnata maaaa ahahah 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 ti piace San Francesco? eh? ti piace San Francesco? eh beh è quello la ragazzi e poi San Nostro dopo San Francesco chi c'è? ah si si? eh e San Francesco c'è Santa Chiara poi? c'è San Rufino poi? e poi poi cazzo oh ecco mi mancava eh fracazzo c'è? eh eh c'è fracazzo? si anda vieni a dietro eh vieni a dietro vieni a dietro mi sento vieni a dietro 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 perché vieni a tutti come sei più mo' ci toccidi vieni a dietro che ho proprio io del Stato ci hai chiesto ma no? scoperme te magari parace un'altra carica più carica mia quindi lasciate un pronostico sotto questa storia secondo te come finisce? Per chi? Vedremo, vedremo, scrivetemi. Dio qualcosa. Lui chi è? Più di una migliore. Chi è? È più di una migliore. Perché? Perché sì. Perché? Un Porsche Cayenne, che ha? Porsche Cayenne, che cilindrata? Nel giorno, l'Italia di riposo, che hanno frustato bene contro le gambe, i presidi curano. I giocatori dell'Inter? Ma sta zitto, che non mi nervi, che non giocano, non curano, niente. Ma il gol come l'hanno preso? Ma il gol è la papara tra il portiere e il paladro stronzo del difensore. Ma più il portiere, eh? Portiere dal pallone tra uno che ha scoperto. Ma tirlo, calci, lo mandano su. Non c'è il deficiente alla porta, è anche scoperto. Ma come si fa? Una papara da tutti e due. Non doveva mandare il portiere. E vado a far culo il portiere. Nooo, puoi andare. Goal! Goal! Sul 1 a 1 è poco carico, eh? Che ha segnato? Boh. Come boh? Ma che ne so. Che ha segnato? Non ne so. Che ha segnato? Cosa? E così via...